Una importante collaborazione tra ASL di Taranto, Teleperformance e Soleterre Onlus, un sodalizio che si rinnova per il bene di tutti ed in particolare per i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, annunciato l'avvio di una nuova borsa di studio. Continuare a tenere l'ospedale a livello di eccellenza europea per quanto riguarda le analisi e la banca dati. Noi qui ci siamo anche però per stringerci non più virtualmente ma in presenza alla mano, cercando di ringraziarci per le cose che abbiamo fatto fino a oggi. Teleperformance con i suoi servizi di assistenza tecnica, informatica, social media e Soleterre, fondazione Onlus che si impegna nella salvaguardia la promozione del benessere psicofisico di tutti insieme ad ASL di Taranto per dare maggiore supporto anche alle famiglie dei piccoli pazienti. Ci sono dei momenti importanti come sono proprio a volte la perita dei capelli per un bambino, per una bambina ma anche per gli adulti è sempre un momento importante e quello che abbiamo visto è che si dice che la psiconcologia, quindi il supporto psicologico è il 50% delle cure. Dare la possibilità alle famiglie di non fare questi viaggi della speranza, di quando il papà e la mamma per accompagnare i bambini devono chiudere casa e non sanno più quando rientrare. Da parte mia ringraziamenti anche a Teleperformance e a Soleterre.